Innistrata sta per giungere all'interno delle locande della magia e questa è la prima figurina che vi voglio presentare perché possiede una meccanica particolare nuova all'interno della circoscrizione del rettangolare che state vedendo in questo preciso istante. Allora, Day Bound, che cazzo è Day Bound? Ci sono delle carte che sono in una maniera di giorno e in un'altra maniera di notte, dal giorno alla notte si passa in un specifico modo, ovvero noi giochiamo con una carta con Day Bound, passiamo e l'avversario non gioca nulla e allora improvvisamente durante la partita in questione da giorno si passa. Alla notte e durante la notte queste determinate carte si flippano e modificano i loro effetti, la loro struttura, il loro tutto. Arlin the Pax Hop, cioè Arlin l'apertrice di pacchi, che cosa fa? È un placewalker che con più uno fino alla fine del tuo prossimo turno puoi lanciare creature come se avessero flash e ogni creatura e controlli entra in gioco un segnalino più uno più uno addizionale su di essa facendo più uno, quindi più uno lanci le creature come flash ed entrano baffate. Con il meno tre cagli due pubazzi, bubazzi, due due lupi in gioco, un po' come l'old spider queen, quindi con il meno tre stai spammando board e rimane in vita. E avendo Daybound, passando dal giorno alla notte, il placewalker in questione si flippa, diventa questo maiale assoluto. Un altro placewalker che o da mana col più due, uno rosso e uno verde, oppure con zero, diventa fino alla fine del turno una creatura lupo, 5-5, travolgere, rapidità, indistruttibile. La cosa sgravissima di questa roba è che potrebbe essere già notte, che potrebbe essere già notte, quando tu stai per lanciare questa carta. E se tu questa carta la lanci che è notte, ma che si pazzo! Se tu questa la lanci che è notte, hai fatto 4 mana quindi, giusto? Fai 4 mana, 5-5, travolgere, indistruttibile, rapidità, giusto? Che una roba arrivo fuori di testa! Quindi, ti devi cagare in mano sostanzialmente quando è notte. Perché si sa che durante la notte, le creature più abbiette, più rivoltanti, più viscine, disgustose, terrificanti e mortali, escono allo scoperto. Nonché la magia notturna! Nonché! Grande citazione a Castlevania 2, Simon's Quest. Giorno e notte, giorno e notte, 24 ore, in funzione. Durante il giorno, potevi star tranquillo quando ti trovavi in città, se ti chiamavi Simon Belmond, nell'avventura di Simone. Ma la notte, in città, i cittadini si tramutavano in zombie mortali che ti volevano succhiare via il cervello, il cervello. Token giorno! Eccolo qua, questo è il token giorno. Cioè, giorno è giorno per tutti, eh? È giorno per tutti. E la notte, stessa cosa. La notte, eccola! La notte di Antonioni, lo vedi, lo vedi quello in fondo a sinistra, riesce a vederlo quel puntino dopo la seconda guglia a sinistra? Quello è Marcello Mastroianni. Sarit! The Vipers Fang! Quattro mana! 3-4! Creatura leggendaria! Umanide stregonide! Le altre creature tappate e controlli hanno dettaccio. Praticamente, quando attacchi con le creature, con le altre creature, prendono dettaccio. Le altre creature stappate e controlli hanno X-Proof. Questa cosa è figa. Questa seconda abilità è molto figa. Dai X-Proof a tutto. Però tranne lei, tranne lei. Con uno, tappa e stappa un'altra creatura o una terra che controlli. Quindi puoi dare X-Proof a velocità instant a un'altra roba. Allora, posso dire, questa carta secondo me è una merda assoluta, fa schifo. Per me questa è forte solo in Limited. In Limited è una buona carta, ma nemmeno un'eccezionale in verità. Nemmeno così forte, cioè questa secondo me è scarsa sempre. Peccato perché avere un bellissimo disegno, una bellissima cornice intrecciata di piante rampicanti in questa vegetazione fitta che si mischia con la fauna. Vedete, non si capisce se quello è un traliccio o un serpente. In realtà è un serpente. Posso uscire per strada? Invece di mostrare il telefonino di merda col codice a bar. Ma scusi, posso mostrare questo? Questo è un perfetto Green Pass. Il Green Pass sì, ce l'ho! Foil ce l'ho! Vieni, vaffanculo! L'angelo indurito! 5-1-3-3 Volare, doppio attacco, tu hai X-proof. I tuoi punti vita totali, quando vengono ridotti a 0 o meno, invece trasforma l'angelo indurito. E i tuoi punti vita totali diventano 3. Se l'angelo indurito non si trasforma in questa maniera, perdi la partita. Beh, grazie al cazzo. Se vai a 0 e l'avversario fa stifol sull'angelo, perdi la partita. Ma non perché ha fatto stifol sull'angelo, perché sei a 0 e non triggerà l'effetto, insomma. L'angelo forzuto! Che fa l'angelo forzuto? Volare, X-proof di nuovo, asterisco asterisco, quindi a forza e costituzione, pari ai tuoi punti vita totali, quindi 3-3, praticamente. Se i tuoi punti vita diventano 3, diventano 3-3, ok? Quando però l'angelo in questione attacca, raddoppia i tuoi punti vita. Ah! Quindi attacca come 6-6, praticamente. Se non è successo niente nel frattempo che non sei esploso, attacchi poi questa roba, raddoppiano i tuoi punti vita, quindi da 3 passano a 6, e questa attacca come 6-6. Una schifezza assoluta. Una schifezza assoluta questa carta. Una merda ingiocabile. Sto pensando se il limited è forte. Sì, il limited è buona, è molto buona il limited. Il limited è buona, se non te l'ammazzano sì. Ma di per sé perché 3-3 attacca improvviso è buona. Secondo me questa carta è scarsissima. Constructed è una merda incuardabile. Il limited sarà una buona carta. Sarà una buona carta, ma nemmeno sensazionale. Cioè 3-3. 5 mana di cui 3 bianchi. Vabbè, sì, il limited lo giochi, basta fare bicolor. E allora, attenzione. Una carta innovativa. Questa carta è veramente innovativa. Non si era mai visto nulla di simile. Mai si era vista una magia a costo 2 izet. Che, una volta che è stata il prossimo istantario stregoleria lanciato in questo turno, viene copiato. Non si era mai veduta. Da questi occhi non l'avevano mai osservata. Una carta simile. Tu puoi scegliere nuovi target per la copia. Però, c'è da dire che questa, rispetto a quelle passate, l'hanno fatta, in realtà, per chi non avesse capito l'ironia, l'hanno fatta tipo un miliardo e mezzo. Una tonnellata circa, ne hanno fatta di carte simili, pure comuni. Però, questa flashback. Beh, il fatto che abbia flashback è una bella cosa, eh. La rende un pochino più... Dice, beh, questa carta è troppo scarsa, non la giocano mai, se gliela riproponiamo sempre uguale. No? E allora, mettiamogli qualcosa in più. Flashback. Flashback, per chi non lo sapesse. Forse, per chi non gioca a magia, diciamo, per chi gioca a magia da poco, sicuramente non conosce l'abilità flashback. Mentre flashback, in verità, è un'abilità storica di magia. Ovvero, possiamo rilanciare le carte dal cimiteros. Quindi, value a schifo, cioè una carta che la puoi giocare due volte. Ci troviamo di fronte a un'altra abilità. Scusate, ma dovevo. Si chiama Disturb. Beloved Beggar. Due mano a 0,4. Umano paesano. Umano paesano. Somiglia anche un po' a Padre Pio. I vestiti sono uguali. L'estima di idem, la barba pure. Due mano a 0,4 Padre Pio. Disturba. Sì, la guida è pubblica quando urlava alla gente che non si confessava. Tu puoi lanciare questa carta dal tuo cimitero trasformata per il suo costo di disturbo. Un prete che ha l'abilità disturbo. Non è un prete, è un umano. Però c'ha questa tonaca che mi ricorda un frate un pochino. Andiamo avanti, vediamo che cosa si trasforma una volta che si è disturbato. Una volta disturbato, il Padre Pio si trasforma in... Beh, minchia! Alla faccia di Padre Pio diventa uno spirito incazzatissimo. Eh, effettivamente è Padre Pio, no? Quindi è bistrattato in vita. Una volta, vuoi dire, salito verso il cielo, poi si tramuta in una santità. Cautela, volare, 4-4. Minchia! Se sta per essere messo nel cimitero da qualsiasi luogo, invece lo esili. Vabbè, schifo. Però, diciamo che questa carta ci introduce all'interno della meccanica del disturbo. Coloro che di più in assoluto pregheremo e ci augureremo sia di trovarle che di non trovarle. In alcune circostanze, molto di più di solito di non trovarle. Almeno nella mia persona, eccole le terre della magia di tutti i colori. Guarda che bella la rosso-nera, guarda che bella. La rosso-verde! Partiamo dalla rosso-verde, che sono tutte uguali. In realtà, analizziamola, quindi, questa figurina di magia. Una terra che entra in gioco tappata, a meno che tu non controlli due o più altre terre. Quindi questa, a differenza delle fast land, che entrano in gioco invece stappate nei primi tre turni, questa invece nei primi due turni entra in gioco tappata. Quindi turno 1 entra in gioco tappata, turno 2 entra in gioco stappata, turno 3 però entra in gioco stappata se hai fatto due terre. Quindi, diciamo che, diciamo che sono delle terre più che giocabili, soprattutto in mazzi lenti. No, a me, intanto sono, vabbè, sono terre da standard, sono terre da standard, le giocheremo sicuramente. E sono terre, tutto sommato ok, nel senso, non è che giochi solo, non devi giocare solo queste ovviamente nel mazzo, se no giocherai anche altre terre nel deck, quindi, nei primi due turni fai altre terre. Oppure, per esempio, cioè a meno che non stai giocando un mazzo aggro, se stai giocando un mazzo aggro con innumerevoli droppa uno, cioè questa giocata a turno 1 tappata va bene. Cioè, in standard siamo abituati a fare terra tappata a turno 1, no, turno 1 fai terra tappata. Turno 2, ecco, turno 2 fa schifissimo, turno 2 speriamo di non farla. Ecco, facciamo un'altra terra, giocheremo delle altre terre. Oh, da turno 3 in poi queste sono sgrave però, eh. Oh, da turno 3 in poi sono fortissime. Torni 2 o più altre terre, cioè da turno 3 in poi queste sono terre stappate doppie, sono... Cazzo, taiga! Non perché non vale come montagna e foresta, però... Cazzo, da turno 3 in poi sono fortissime. Questa è la rossa-nera, che è fighissima. La bianco-blu. Oh, il vago settore, questa sarà una delle più giocate. Overground Farmland, che sarebbe la bianco-verde. La bianco-perde. Due manano 1, Jadar, goal-caller of Nefalia. Creatura leggendaria, umano-mago, umano-mago. All'inizio della tua fase finale, se non controlli creature con decayed, adesso scopriamo che cosa è decayed, crea una zombie 2-2 con decayed, giustamente. Quindi, attenzione, questo non ha decayed, no? Perfetto, quindi... Quando entra in gioco, questo qua non fa cazzo. Però alla fine del turno, se non hai niente, turno 1 niente, turno 2 giochi questo. Se sopravvive al turno, alla fine del turno metti un 2-2. Metti un 2-2. Decayed, che cazzo è? Un 2-2 con decayed. Allora, non può bloccare. Quindi non può bloccare questa 2-2 che stai cagando con goal-caller. Quando attacca, sacrificalo. Alla fine del combattimento. Un malus gigantesco questo qua. Cioè, non puoi né bloccare, né bloccare, né attaccare. Cioè, se attacchi, crepa la creatura. Numano uno più una pedina. Però sta pedina, che te ne fai? Cioè, attacchi e crepa? Magari triggeri cose, non lo so. Cioè, sembra uno di quei mazzi, sì, tipo in stile Rakdos, no? Sacrifice, che fai cose con le creature che quando entrano in gioco, crepano, sacrifichi, peschi una carta, 2, non lo so. Poi spacca sotto merchant. Mette segnalino sull'olta. Sì, robe simili. Cioè, è un generatore di mostri, sto coso. Difficie da valutare adesso, senza avere un quadro completo della situazione. Per me questa è una carta che ha potenziale, che però non posso valutare adesso. Rimandata a settembre, letteralmente. Andiamo avanti. Trimmana 3-3. Quando un lupide, o un wear lupide, che controlli, infligge danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Aha! Quindi anche se stesso. Beh, anche se stesso attacca, pesca. Beh, non è male. All'inizio del tuo mantenimento, se controlli tre o più lupidi... Vabbè, se controlli tre o più lupidi hai vinto la partita, amico mio. Cioè, scusi, tutti sti lupidi. Diventa notte. Evviva la notte. Tolar. The Midnight Scourge. Cioè, questo si flippa e diventa un 4-4. Con un lupide, o un wear lupide, che controlli, infligge danno a combattimento a un giocatore e pesca una carta. Poi con uno rosso e uno verde, un lupide o un wear lupide che controlli, guadagna più x più 0 e guadagna travolgere fino alla fine del turno. Beh, non è male. Beh, non è una brutta carta questa. Mi piace di più la prima parte che la seconda, posso dire? Non hai niente per terra. Anche lui poi, quando connetterà a faccia, se connetterà a faccia, pesca a carta e poi si tramuta in qualcosa di più grosso. In un 4-4 successivamente, nel momento in cui... Eh, diventa notte, no? Non è male. Secondo me non è una brutta carta. Sigarda! Sigarda! Champion of Light. Creatura leggendaria. Angelo. 4-1-4-4. Volare. Travolgere. Gli umani che controlli, guadagnano. Più 1, più 1. Fino ad ora non sono eccitato. Allora, Coven. Quando Sigarda attacca, se controlli tre o più creature con forza differente, guarda le prime cinque carte del tuo mazzo, puoi rivelare un umano, una carta umano creatura e metterla nella tua mano. Metti il resto in fondo al grimorio in ordine casuale. Ma, ma... Allora, se c'è il mazzo umani... Volare rapidità, dobbiamo vero, tipo... Volare rapidità, ecco. Volare rapidità, va bene, parlavamo. Oppure, rapidità travolgere, ne parlavamo. Volare travolgere! Ok. Insomma, sono due effetti, diciamo, evasivi, un po' replicati. Potevamo dare rapidità a sta roba, comunque. Non avendo rapidità, l'attacchio con tre o più creature con forza differente. Poi, mamma mia, cioè è proprio difficilissimo l'attivazione pure, mi sembra. Mi sembra un siluro da limited. Constructed, ragazzi, non lo so, cioè... Magari il futuro Constructed sarà pessimo e allora... E allora giochiamo questa, però... Cioè, tipo, nel Constructed di oggi questa roba fa ridere. Però non abbiamo percezione reale di ciò che sarà il futuro dello standard. E allora, Lady's and Gentleman! Catarro brutale! Tremana 2-2! Umano! Soldato! Werlupo! Eh, la madonna! Gran Farabut, figlio di Butte, Balambani! Mamma mia! Un nobile, quasi! Quando questa creatura entra in gioco... O si trasforma in un catarro brutale... Esilia una creatura a bersaglio controllata da un avversario... Fin quando questa creatura non lascia il campo di battaglia. Quindi è un Tremana 2-2 che muore da... Shock! Perché boncrasher non c'è più. Ha ha! Ci rassomiglia un po' a Deputy of Detention, ok? Poi però c'ha Daybound. Adesso vediamo in cosa consiste. Se un giocatore non lancia magie durante il suo turno, al solito... Dal giorno si passa alla notte! Diventa un Werlupo! 3-3! Ward paga 3! Beh! Minchia! Bello quest'altra parte, cazzo! 3-3 attacchi provviso! Con Ward! Devi pagare 3 il bastardo per targettartelo... E riprendersi la sua creatura! Mi sembra una bella carta! Meno forte di Skaglave! Vabbè, grazie al cazzo! Skaglave è imparagonabile! Cioè, proprio il paragono di Skaglave non andrebbe proprio fatto nemmeno! Detto ciò, mi sembra una delle migliori carte, spoilerate quest'oggi, no? Un mana rosso e X, Strenoneria. Light up the stage, no! Light up the night! Inflige X danni a un qualsiasi bersaglio, Sorcery. Quindi è tipo una palla di fuoco. Inflige X danni più uno, invece, se stai targettato una creatura o un placewalker. Ok, quindi questa carta è più efficiente se stai targettando una creatura o un placewalker. Ok, diventa un po' più efficiente, ma non neanche di tanto. Però poi c'ha flashback. Con quattro flashback. Rimuovi X segnalini da i placewalker che controlli. Da i placewalker che controlli. Se tu lanci questa magia in questa maniera qui, la X non può essere zero. Quindi, praticamente, a seconda del numero di segnalini che togli dei placewalker, stai sparando X danni a un placewalker o una creatura. Necessiti quindi di placewalker necessariamente all'interno del deck. E mi sembra che non ne valga la pena. A occhio e croce. Fortissima Immensa Schifo e rischifo Sbocco e risbocco Andiamo avanti! Attenzione! Perza! Il colore migliore della magia a breve Suturador de Bonecos Questo personaggio ha stile da vendere e viene direttamente dai film horror quelli con i pupazzi giocattolosi schifosi degli anni 80 Vedi, guarda questo diso che sta mettendo insieme una specie di goblin disgustoso Lo sta ricreando Ma gli mancano pure pezzi di dita a questo Guarda che bello Direttamente da Goals Da Goals 1 e Goals 2 Creatura umanomago Todasves, che voce congiurar Una magica istantanea Home, um, feticcio Cree, una fica de creatura Zombie Zombie Preta Zombie Preta 2-2 Con Decomposto Cioè, se ho capito bene c'è qualcosa che ha a che fare con la necrofilia E mi dissocio in tutti i modi possibili e immaginabili Quando lanci un istantaneo o una stregoneria Crea uno Zombie 2-2 Con Decaied Decaied è quella solita roba Che non può bloccare E quando attacca la sacrifichi Ok All'inizio del tuo mantenimento Se controlli tre o più creature popazzi Puoi trasformare il tizio Il Doll Stitcher Si chiama Doll Stitcher In Toy Factory Passa data Che cosa Dal, diciamo Procurarsi piacere con Esseri viventi Non più viventi Il signor Saturador A procurarsi piacere Mediante Una fabbrica Una fabbrica di giocattoli Le creature pedine e controlli Perdono tutte le abilità E hanno forza E costituzione 3-3 Gli zombie schifosi 2-2 Con Decaied si tramutano in Esseri assolutamente utili 3-3 Quindi questo diventa un artefalso Artefatto proprio All'inizio del tuo mantenimento Tu puoi trasformare La Toy Factory Fortissima questa cosa Quindi Se vuoi Se vuoi Poi all'inizio del tuo mantenimento Mentre ce l'ha fatto Se sono esplosi tutti I pupazzi I pupazzi Che una volta erano zombie Figa Decomposti Se sono esplosi tutti Puoi tramutare di nuovo in Fabbricatori Di fighe decomposte E quindi a quel punto Riparte il tram tram Però le devi controllare 3 Per trasformare in Fabbricatori Molto bella questa carta Posso dire è fantastica Una carta fantastica Abbiamo trovato un senso Al 2-1-1-1 di prima Eh scusa 2-1-1-1-1 di prima Ha un senso 2-1-1-1 Quello che metteva il 2-2 Diceva che cazzo serve il 2-2 Eh serve Può servire Non è Brogan Però è una bellissima carta Con un design fantastico Un testo migliore ancora C'è la fabbrica di pupazzi Può ricordare Evangelion Ma a me ha ricordato Metal Slug Sinceramente A me ha ricordato Molto Metal Slug The Prestige Il Berlusca Spider-Man Tutti i Berlusconi A me ricorda Metal Slug Ve l'ho ricordato Uno dei livelli di Metal Slug Verso la fine È bello l'effetto Che tutte le volte Che lanciano istantaneo Una stregoneria Metti un 2-2 Cazzo Questa cosa è fortissima Non lo so se si giocherà Però mi sembra una figata Totale Bellissima Bellissima Il Limited È geniale Sta carta Un po' difficile Perché solitamente Vuoi più creature Che instant E sorcery Però magari riesci a fare Tutto un mazzo Con le fighe di creatura Si trasforma No lo so Bella Bella carta Bellissima carta La carta più bella di oggi 4 mana 3-3 Dovevo Quando un altro zombie Che controlli Muore Scusate ma dovevo Non aveva decaied Crea Scusate ma dovevo Scusate ma dovevo All'inizio della fase finale Tu puoi sacrificare uno zombie Se lo fai pesca una carta Beh minchia Dovevo Un comandante Di commander Bellissima Gentlemen Quindi questi erano Gli spoiler di oggi Ovviamente Rimaniamo sempre con un occhio Puntato a destra Sempre per Monitorare Eventuali Ulteriore Uscite della magia L'unico problema È che non posseggo Ulteriori monitor Qui sulla mia scrivania E quindi Devo anche ogni tanto Fare un po' di Alt tab